Ciao ragazzi, sono Filippo Ganna. Purtroppo ho preso anch'io questo maledetto Covid e mi ha fatto saltare gli ultimi campionati europei che avevo in stagione. Dobbiamo essere una grande squadra, dobbiamo riuscire a fermarlo e per farlo ci sono quei piccoli gesti che a volte vengono dimenticati. L'uso della mascherina è fondamentale, lavarsi le mani e soprattutto il distanziamento sociale. C'è chi si trova di nascosto per fare festa, anche a me piacerebbe tanto, però a volte puoi essere soltanto avvettore per la gente più debole che abbiamo a casa. Cerchiamo di rispettare le regole e ne usciremo il prima possibile per poi tornare alla vita di sempre.